Teatro Petrarca, Amanda, una bella responsabilità, l'apertura con un classico greco, con l'Isistrata. Perché questa scelta? L'Isistrata è una commedia di Aristofane, è molto vecchia, sono a 2500 anni, parla della condizione femminile, ne parla in un modo molto sarcastico, molto ironico, mettendo in discussione soprattutto questo simbolo di potere maschile che è proprio il fallo eretto che lui continua proprio a indicare, a obbligare nella commedia. E questa cosa ci sembrava estremamente attuale perché appunto è proprio quando l'uomo in qualche modo, per qualche motivo si sente sminuito nel suo essere maschio che diventa feroce. Questo viene detto proprio in una battuta dell'Isistrata. E questo è un tema, ahimè, sempre purtroppo più attuale. Peraltro dicevamo che è una responsabilità ma anche una grande soddisfazione perché in questo tu sei stata molto spesso nell'Aretino, sei presente, però questo insomma è il Teatro Petrarca, ripartire con una stagione dopo questo stop lungo e forzato in una città che ama molto il teatro. È molto emozionante stare in palco. Io quasi tutte le sere ringraziamo il pubblico di essere qui ed è veramente emozionante, non è una di quelle cose che si dicono. Stiamo stati fermi tanto, siamo stati fermi più di un anno, a me è andata bene una stagione perché il primo lockdown avevo appena finito di lavorare, tanti attori sono stati fermi addirittura due stagioni. Non è solo un problema, anche se per molti lo è un problema economico, ma è anche un problema proprio di vita.